Salve a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale Dentouch. Oggi volevo parlarvi non di un prodotto, bensì di un servizio. Vi spiego, non so se l'avete mai visto o mai sentito, questo è il liquid box. In pratica tutti i vapors, almeno tutti quelli con cui mi sono interfacciato, hanno sempre un problema. Qual è il problema? I liquidi, è la scelta dei liquidi. Infatti, come sapete, se andate in negozio o avete un liquido già in mente, oppure dovete scegliere fra mille varianti. Cosa fa sto servizio? Questo è un sito francese, quindi il servizio arriva direttamente dalla Francia. E tramite un piccolo test sui gusti, quindi vi chiede che cosa svapate solitamente come box, che tipo di gusti che avete già provato vi piacciono e quant'altro, vi crea una scatola. I prezzi sono vari, perché c'è sia la scatola small, media che XL, e sia la scatola a rumi che scatola a liquidi pronti. Adesso io ho preso una scatola M di liquidi pronti, mix and vape. Vediamo qui, questa è la prima scatola che mi è arrivata. Arrivano con gli sciottini di nicotina, ve la dovete nicotizzare voi. E i liquidi arrivano già mixati con glicole e glicerina, e ovviamente il loro aroma. Allora, questa qui è la prima box. Abbiamo The Captain Juice Siren, sarebbe un liquido dolce, un mix di noccioline e caramello. Arakiri Violet, un bel fruttato abbastanza strong, frutti esotici e cocco, quindi dovrebbe essere papaya, mango e cocco. Un bel liquido della Drip Maniac, dove vediamo una specie di Harley Quinn, si chiama Strawberry Quinn. E questo qui è una torta, una crostata di fragole. Ora, questi sono tre liquidi da 60 ml, questi altri due sono due da 30 ml. Un dolce Madeleine, questo non è da spiegare, è un dolce francese molto conosciuto. E il Chiobs, che sarebbe un fruttato. Adesso, dipende ovviamente dal servizio che utilizzate, e quindi dal tipo di box liquidi che scegliete. Però questa, che io ho pagato 35 euro, mi ha fatto arrivare a casa, uno, due, tre liquidi da 60, due da 30. Questo, se non sbaglio, è un regalo di aprile, però loro ogni mese mettono un regalino nella box. Quindi praticamente, con 35 euro, avete 200 e passa ml di liquido, in più la nicotina, a seconda di come fumate. Se fumate a zero non arriva, ovviamente, se fumate a tre o a sei, gli arrivano gli sciottini. Ora, niente da dire, un servizio del genere, io lo cercavo da tanto tempo, conoscevo liquidbox, non l'avevo mai provato prima, perché aspettavo che in Italia successe qualcosa, ma siccome non è successo, mi sono dovuto regolare e quindi prendere da loro. Quindi, niente, questi ho già, li ho provati tutti. Dalla prima intervista, posso dire che ci hanno azzeccato 4 su 5, perché, per come piace sva per a me, e magari questo qui è un pochino troppo nocciolato, però un dolce ottimo con la fragola che ti va a schiarire il palato e a sciacquartelo. Un bel fruttato strong per quando ci vogliamo svegliare la mattina, un fruttato molto buono il Kieops, e poi un bel dolce magari la sera per una coccola, mettiamola così. Quindi, niente da dire, ottimo servizio liquidbox, la box è arrivata in soli due giorni lavorativi, e nulla. E questo qua, praticamente, è un servizio di abbonamento, quindi ogni mese loro vi mandano una box. A sto prezzo, con 35€, se andate in negozio, prendete forse un liquido e mezzo con tanto di nicotina. Quindi, credo che sia abbastanza conveniente. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, e se vi è piaciuto il video, lasciate un like. Se non vi è piaciuto, lasciatelo lo stesso. Ciao ragazzi!